Il Papa arriva Il Papa ha ricordato che nel Vangelo di Matteo ci viene riportata la domanda che ardeva nel cuore dei magi Dov'è il re dei giudei che è nato? La ricerca di lui era il motivo Il Papa ha ricordato che nel Vangelo di Matteo ci viene riportata la domanda che è nato? Il Papa ha ricordato che nel Vangelo di Matteo ci viene riportata la domanda che è nato? Il Papa ha ricordato che nel Vangelo di Matteo ci viene riportata la domanda che è nato? Il Papa ha ricordato che nel Vangelo di Matteo ci viene riportata la domanda che è nato?